Reggiana Modena è finita 1-0 e tutto sommato sono sorpreso, ma sono anche molto contento, sì perché questa vittoria era inaspettata, questo devo dirlo. In più, vittoria, salvezza e possibilità di sognare. Perfetto, una giornata perfetta, anche perché, devo essere sincero, vincere con il Modena è soddisfacente perché la sfida è sempre aperta, sia con il Modena con il Parma. Però vincere e essere matematicamente salvi è ancora più stimolante, è anche ancora più importante. Fra l'altro, ripeto, una partita di cui veramente mi aspettavo poco, soprattutto dopo aver visto il primo tempo. Due squadre che giochicchiavano, che cercavano di non farsi male prima di tutto, perché comunque sappiamo, e molti lo dicevano, il pareggio era una cosa abbastanza scontata, secondo me, da parte di molti, perché comunque lo 0-0 avrebbe fatto comodo a tutte e due le squadre. Modena sarebbe salvata automaticamente, così come la Reggiana. E quindi, quando la Reggiana ormai ci ha abituato a vedere pareggi su pareggi allo stadio di casa, ecco, non ti aspetti nulla di più. Invece nel secondo tempo vedi una Reggiana che aumenta un pochettino il ritmo. Per carità, non siamo a livelli infiniti o livelli forse nati, però aumenta un po' il ritmo. E arriva un rigore, inaspettato anche questo, perché comunque il giocatore del Modena fa un errore clamoroso, scivola. Scivola e investe, se così si può dire, il giocatore della Reggiana. Rigore netto, assolutamente indiscutibile, da danno al giocatore non gli permette di andare in azione. Quindi il rigore sacro santo che va a segnare Gondo con una freddezza decisamente importante. Sesto gol per l'attaccante e qui diciamo che cambia la partita. Il Modena ci prova, ma non credo abbia le forze per farlo, anche perché probabilmente si era preparato una partita diversa. Inserisce qualche giocatore, come Tremolada, mi pare. E quindi ci prova, ma alla fine la Reggiana è ben organizzata, era pronta per difendersi più che per attaccare e riusciamo a portare a casa i tre punti. Tre punti che, oltre alla salvezza matematica, che sono la cosa più soddisfacente di questa giornata, ci permettono ancora di sognare. Sì, perché vincendo sabato, il 5 maggio, contro la Samp, potremmo pensare ai play-off in modo concreto. È difficile, per carità. La Sampdoria è una squadra decisamente tosta, ben organizzata, che gioca bene e se è in giornata non c'è nulla da fare. Però, perché no? Perché non metterci a sognare? E con una vittoria contro la Sampdoria sarebbe tutto aperto. Dopo vai a giocare con il Parma, che oggi ha trovato la matematica promozione e quindi troveremo dei giocatori parmessi decisamente demotivati. Anche perché se le tifoserie ci tengono parecchio a questo derby, i giocatori non sono ormai più legati alle tifoserie. Come ben sappiamo, abbiamo visto Quadrado che saldava sul pulma dell'Inter alla canzone, chi non sa, da Juventino Edo, nonostante abbia giocato per dieci anni alla Juve con tutti i trofei vinti. Perché i giocatori ormai non sono più legati al tifo. O meglio, sì, cercano di soddisfare i loro tifosi, però nel momento in cui verranno a giocare a Reggio, saranno matematicamente salvi ormai da due giornate. Non avranno nulla da chiedere al campionato, non credo che sarà una partita particolarmente complessa. Però la vera sfida non è tanto contro il Parma ma contro la Sam, che sarà una partita decisamente tosta. Però, come si suol dire, sognare non costa nulla, sognare è bello. Poi ci risveglieremo, sì, forse da questi sogni, però ci sogneremo in Serie B. E quest'altro anno sarà ancora Serie B. Credo che sia la soddisfazione maggiore che possiamo avere in questo campionato. Poi, al meglio, non c'è limite, quindi si spera, si spera, si sogna e vediamo cosa succede. Per ora ho detto tutto, più o meno quello che volevo dire, anche perché la partita in sé non ha dato grandi stimoli di conversazione, però tutto sommato credo che il risultato e le prospettive future siano le cose più importanti. Vi saluto, alla prossima. Ciao a tutti!